Gentili telespettatori di GRP, ben ritrovati a tutti voi ad una nuova puntata in nostra compagnia. Continuiamo a parlare di teatro e a approfondire questo mondo che stiamo imparando a capire, va molto oltre quello che si vede sul palco quando paghiamo il biglietto e andiamo a vedere uno spettacolo, perché sono tanti gli utilizzi e anche i benefici che il teatro può portare nella nostra vita. Quest'oggi vedete al mio fianco due ospiti, il primo ve lo presento perché l'avete già visto, quindi chiedo scusa al secondo ospite, ma parto proprio da Antonio Ferrero. Buonasera Antonio, grazie per essere tornato a trovarci. Grazie a voi. Antonio Ferrero è il direttore artistico dell'Associazione Culturale Area Teatrale ed è un po' il traghettatore che in queste puntate ci sta facendo conoscere questo mondo. Invece la new entry di oggi è Ambrogio Zaia, buonasera dottore, è uno psicologo e uno psicoterapeuta, quindi già capite che vogliamo parlare di come il teatro può apportare dei benefici nella nostra vita. Quindi dottore la mia prima domanda è molto semplice, è vero che il teatro fa bene? Non è una diceria, fa bene sul serio? No, il teatro fa bene, direi che fa benissimo. Lo usavano già i greci. Aristotele a suo tempo aveva scoperto che la recitazione aveva una forma catartica, permetteva all'individuo una liberazione, soprattutto dei sentimenti, delle tensioni, e in qualche modo permetteva di rivivere determinate esperienze della propria vita in una forma che garantiva all'individuo una massima libertà e la sicurezza. La sicurezza di esprimersi senza avere conseguenze banalmente. Poter dire, impersonificare un personaggio e quindi riportare una parte di se stesso all'interno della rappresentazione teatrale e rivivere lui stesso con il personaggio una storia. Questo è molto interessante, mi piace soprattutto quando ci fa riflettere sulla funzione catartica del teatro, che vuol proprio dire, come ci ha spiegato, raccontare se stessi attraverso le storie di altri. Può essere così, o anche mascherarsi però. Sì, in realtà poi la vicenda del teatro permette di realizzare in forma mascherata alcune caratteristiche personali. Nella nostra vita quotidiana non possiamo, e non abbiamo materialmente il tempo per poterlo fare, esprimere liberamente tutti i nostri sentimenti. Con l'educazione al teatro e quindi con l'imparare anche una tecnica teatrale, noi possiamo mettere in gioco noi stessi. In qualche modo, come io dico, dare un corpo alle emozioni. Se do un corpo alle emozioni, l'individuo le può vedere e per questo poi il teatro diventa terapeutico, perché nell'osservare se stessi diventa una forma di consapevolezza e poi una forma di apprendimento. Infatti se immagino alle categorie di persone che forse più spesso si avvicinano al teatro, Antonio mi corregga se sbaglio, Vediamo, grandi passioni per il teatro nascere in età adolescenziale, quando i giovani vogliono imparare a capire loro stessi, e poi vedo anche un po' nell'età della pensione, quando gli uomini e le donne vogliono tornare in contatto con la loro essenza, che non è più di persona che lavora, ma è di essere umano che sta nel mondo. Sì, questo è vero, nel senso che spesso la vita porta a non poter realizzare i propri desideri, i propri sogni. Ci sono diversi allievi che vengono e dicono, guarda io ho desiderato tutta la vita di fare l'attore oppure di fare l'attrice, però ho saluto, lavorare, adesso finalmente la mia stabilità economica o sono in pensione me lo consente di fare e quindi decido di intraprendere questo percorso, che va benissimo perché il teatro non fa nient'altro che rappresentare la vita, la quotidianità, quindi non ci sono problemi di età, di ceti, di categorie, perché nel mondo, nella società c'è il nonno, c'è la nonna, c'è il papà, c'è lo zio, quindi io ho anche allievi di, ho avuto un'allieva di quasi 80 anni, bravissima, ma bravissima, con una memoria di ferro e delle capacità eccezionali. Quello che volevo dire tra l'altro non è solo il fatto del poterselo permettere, ma anche proprio c'è il bisogno, io vedo che tanti, su intorno ai 30, 35, 40 anni, quindi la maturazione da un punto di vista della persona, c'è proprio questo desiderio di dire vabbè adesso comunque lo faccio, voglio affrontare questa cosa, poi che sia uno stimolo dell'inconscio o sia una passione teatrale, questo emergerà poi strada facendo. Quando intanto vediamo anche il sito di Aria Teatrale, qual è? è antoniareteatrale.com .com e .it, è uguale, tutti e due i domini abbiamo, sì. Benissimo. Dottore, dicevo, sentendo Antonio parlare di questa signora di 80 anni che aveva una memoria di ferro, vorrei verificare insieme a lei quali sono anche le capacità che un essere umano può sviluppare affinando la tecnica teatrale. Sicuramente allena la mente, perché deve imparare a ricordare a memoria, una cosa che io già non sarei capace di fare, però i brani, i pezzi, i tempi e poi anche immagino imparare a muoversi in un palcoscenico e quindi avere consapevolezza del proprio corpo. Beh, la consapevolezza è un pochettino quell'aspetto lì, c'è una consapevolezza emotiva, psichica dell'individuo che si vede nel fare e c'è una consapevolezza relazionale che lui vede nel esprimersi e nel muoversi ed è importante. Poi l'età secondo me è un pochettino relativa perché anche l'apprendimento si basa anche su una metrica, quindi io posso imparare le cose a memoria attraverso una metrica, le posso studiare. Non è che uno perché ha 80 anni non può imparare a memoria, forse ci impiega solo un po' più di tempo, ma lo impara. Io ho conosciuto persone che a 70 anni hanno imparato l'inglese e dopo tre anni sono andati in Inghilterra e hanno viaggiato da solo. Ecco, questo è molto utile anche per tutti i ragazzi che ci ascoltano, che scandalosamente alle superiori ancora non sanno parlare inglese. Vedete, persone di 70 anni allenano la memoria. Sì, in modo allenato. E poi secondo me è una mezza prevenzione contro l'Alzheimer. Certo, è una mezza battuta, però mantenere la mente vita attiva permette di vivere meglio, secondo me, perché poi si genera un movimento che non è solo mentale, ma è anche fisico e corporeo. Adesso abbiamo fatto un accenno, ovviamente in maniera molto superficiale, a malattie degenerative o comunque di malattie che sopraggiungono con l'avanzare dell'età, che possono essere quantomeno tamponate con un esercizio, un allenamento di questo tipo. Ma lei consiglierebbe come terapia, usando un termine ancora una volta, non del tutto appropriato, però un esercizio teatrale, una scuola di teatro. Sì, perché secondo me il teatro è davvero la più antica forma di terapia che l'individuo abbia mai sperimentato prima, perché è liberatorio, è catartico. Noi nella vita quotidiana accumuliamo un sacco di emozioni, un sacco di sensazioni. Quando non riusciamo a esprimerle, quelle sensazioni ce le teniamo dentro e in qualche modo riverberano dentro il nostro essere, poi magari agisce sull'umore, sul nostro modo di stare. Se io trovo una forma espressiva, e oggi che viviamo, come io dico, in una società autistica, sempre più dietro a un video, mi crea uno spazio. C'è proprio uno spazio dove io riesco a dare corpo ai miei sentimenti, alle mie emozioni. E questo è fondamentalmente liberatorio. E poi viviamo non solo in una società autistica, come ha detto lei, dottore, ma in una società profondamente in crisi, dobbiamo ammetterlo, in cui probabilmente anche un esercizio di questo tipo aiuta a riacquistare un po' di fiducia in se stessa. È possibile? Sì, permette di riacquistare fiducia in se stessa, di sentirsi più sicuro, di affrontare il nuovo con la consapevolezza di potercela fare. Perché quando vai sul palco di un teatro non sai che cosa ti aspetta, hai imparato la parte, ma non sai quello che accadrà dopo. Bene, secondo me la capacità di imparare a gestire quel momento attimo dopo attimo è fortemente liberatorio. Però per tante persone l'idea di salire su un palco è un momento di panico puro, panico e paura, si può invece combattere. È terapeutica anche buttare sul palco la persona che si vergogna mortalmente? Qual è anche la sua esperienza? Non è buttata sul palco. No, è. Non è del tipo... È un percorso. È un percorso, chiaramente. Io dico sempre ai miei allievi un po' noi abbiamo un freno a mano tirato. Salire e fare questo percorso vuol dire sganciare ogni dentino del freno a mano. Quindi non sai nuotare, ti prendo e ti butto in acqua o impari o muori. No, ci mancherebbe altro. Il percorso teatrale è un qualche cosa che è molto a gradi, a sfumature, che porta chi un po' prima, chi un po' dopo a raggiungere determinati risultati, ma in maniera assolutamente indolore. Se no non sarebbe, come ha spiegato il dottore fino adesso, un qualche cosa di liberatorio, ma anzi sarebbe ulteriormente stressante. Ecco perché Antonio, anche nella vostra associazione culturale, che ha inaugurato i nuovi spazi da pochissimo tempo ormai, avete pensato proprio non solo di organizzare i canonici corsi di teatro per chi aspiri a diventare attore, ma anche tutta una serie di incontri, di stage, di approfondimenti per chi ha bisogno di liberarsi un po'. Sì, perché io credo che un'associazione culturale, ma culturale non voglio usare questo termine che talvolta è abusato, c'è un'associazione di individui, di persone che non giocano solamente, ma possono sfruttare determinate tecniche, determinati argomenti come gioco, ma con uno spessore dietro. Mi sembra giusto che innanzitutto gli allievi dopo tre anni di percorso sappiano che possono continuare a esercitare la loro passione o quello che hanno studiato, perché tante volte si finisce un corso e poi dicono adesso ho imparato tante cose, dove vado a fare l'attore? No, beh tu continui, tu fai parte di questa associazione e ti organizzerò periodicamente con i tuoi colleghi di corso, con me stesso, degli spettacoli. E in più mi sembra anche bello organizzare degli incontri a tema con magari uno psicologo o anziché un neurologo o non lo so, argomenti dove ci sarà a monto una rappresentazione dei miei allievi teatrali, quindi se si parlerà di un argomento, esempio la solitudine, che nonostante oggi sembra che comunichiamo con telefonini, network eccetera, però credo, ma questo sarà il dottore a fermarlo o meno, che siamo abbastanza soli, il fatto di a quel punto lì mettere in scena una piccola rappresentazione che possa parlare della solitudine e poi un incontro con una persona autorevole. Bene, allora il tempo a nostra disposizione è scaduto, quindi a me non resta che ringraziarvi per aver partecipato a questa nostra chiacchiera sul teatro, grazie ad Ambro Giozzaia, psicologo e psicoterapeuta, e grazie ad Antonio Ferrero, direttore artistico dell'Associazione Culturale Area Teatrale. A me non resta che darvi appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci. Buonasera, arrivederci.